L'abbiamo detto tante volte, ma continuiamo ad andare avanti e siamo arrivati a un traguardo che, a dirlo adesso, è impressionante. Abbiamo fatto un milione e mezzo di dosi alla popolazione della provincia di Salerno. 802 mila dosi come prime dosi e 700 mila seconde dosi. Abbiamo già fatto, siamo già partiti con le dosi aggiuntive, 1.500 dosi aggiuntive, divise tra le dosi addizionali per i fragili e le dosi per gli anziani. 500 e 1000. Questo è il segnale che siamo sulla strada buona, però non dobbiamo abbassare nulla, non possiamo fermarci. Ormai siamo tranquillamente al 75% della popolazione residente nella provincia di Salerno. Nella città di Salerno siamo molto più in alto. Abbiamo quasi il 99%, abbiamo completato quello che era il famoso immunità di gregge. Non è sufficiente, dobbiamo riuscire a fare un altro 5% o 6% e dobbiamo ricominciare a fare le terze dosi, le dosi aggiuntive, a partire dalle persone più anziane. Siamo già partiti nell'RSA, lo stiamo facendo nell'RSA. Stiamo invitando tutti gli ottandenni a recarsi verso i nostri centri vaccinali che sono tutti aperti. Non c'è bisogno di prenotazioni, non c'è bisogno di presentarsi e fare l'altra dose. In tutte queste dosi abbiamo fatto 100.000 dosi a giovani da 12 a 18 anni. Siamo ormai su 60.000 dosi ai ragazzi in quest'età già doppie dosi, che significa che stiamo andando avanti molto bene. E l'effetto lo vediamo. Cioè nelle scuole si è ripreso, è mai un mese che abbiamo ripreso le scuole. Sì, c'è qualche caso ogni tanto, però il clima complessivo, la fiducia complessiva, le mamme sono più tranquille, si è ripreso la scuola. Poi quando succede qualche caso c'è un attimo di allarme, si chiude lo stretto necessario, si chiude e si delimita lo stretto necessario, però si è ripresa la scuola, si è ripresa l'università, è un piacere vedere i ragazzi che li cominciano a frequentare, sta riprendendo il percorso.